Bentornati a tutti, siamo qui oggi con Alessandro Bartoloni, Alessandro molto noto, conosciutissimo di Ottolina TV e siamo qua per parlare di quello che è il pamflet che ha scritto Giuliano Marrucci, che è però il pamflet di Ottolina TV, lo vedete qua in sovraimpressione, riscossa popolare, analisi, storia e critica per un progetto di azione politica. Allora Alessandro innanzitutto benvenuto, è un piacere averti qua con me ed è un piacere andare a dibattere di questo pamflet e dei contenuti che adesso andiamo un minimo a sviscerare. Allora Luca grazie mille intanto per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con te in trasmissione, è bello per una volta essere dall'altro lato della barricata, cioè non essere appunto l'intervistatore ma essere l'intervistato, ma insomma scherzi a parte mi fa molto piacere parlare un po' con te di questo pamflet perché effettivamente è stato un po' un primo tentativo da parte di Giuliano ma un po' di tutta Ottolina TV che a noi ci piace definire un po' come un intellettuale collettivo, un primo tentativo dicevo di mettere nero su bianco una prima elaborazione complessiva della nostra visione politica e quindi diciamo che in questo pamflet che è breve, sono circa 120 pagine e scritte volutamente nella maniera più chiara, divulgativa possibile. In queste pagine abbiamo appunto cercato di chiarire un po' quello che sono le basi che stanno appunto a fondamento delle nostre analisi che facciamo tutti i giorni con le interviste, con i video che approfondiamo eccetera eccetera e quindi insomma per chi volesse acquistarlo trova appunto quasi un piccolo manuale, un piccolo manuale che secondo me, secondo noi oggi è particolarmente utile per orientarsi in tutte le principali questioni politiche, geopolitiche, economiche eccetera eccetera e quindi utile credo sia a quelli che non hanno seguito in questi anni Ottolina TV e che magari con questo manuale, con questo piccolo pamflet possono cominciare a seguirlo avendo diciamo un pochino di basi, non che sia necessario ma può essere utile sia per quelli che magari invece ci hanno seguito in questi anni e però magari spesso sai nelle analisi certi concetti li dai per scontato cioè per dire Giuliano è un economista e quindi spesso parla di finanziarizzazione, dollarizzazione, neoliberismo tutti i concetti fondamentali ma che magari le persone hanno tutto il diritto di non conoscere o di non comprendere appieno quindi invece pensavamo fosse utile mettere su bianco proprio anche un po' di definizioni base di questi concetti qua ma infatti Ale guarda io la cosa devo dire l'ho letto, l'ho trovato molto agevole, snello ma non perde però quella che è la sua efficacia allora vado un attimo a interrogarti su un paio di punti la prima questione è che innanzitutto questo pamflet come te dice a mio avviso è fondamentale perché Ottolina TV che è una realtà che comunque cresce, che è vuoi o non vuoi, che a molti piaccia o non piaccia per me è la stella polare della controinformazione e anche la stella polare attorno a cui vuoi o non vuoi ruotano anche tanti canali come ad esempio il mio, prendono proprio ispirazione da là ed è importante a mio avviso che ci siano quantomeno delle linee guida perché se io dico mi vado a mettere tra virgolette vicino a Ottolina e dire io condivido le cose di Ottolina posso fare riferimento ad esempio ad un testo ed appunto come questo manuale per dire io questi concetti li condivido al cento per cento, questo concetto secondo me si può dibattere più o meno però è importante, è fondamentale e la cosa che io ho apprezzato, devo dire, del pamflet è che innanzitutto ha una chiave di lettura marxista perché proprio sin dall'inizio parla chiaramente di quello che è il conflitto tra capitale e lavoro senza entrare ovviamente nella quella che è la dottrina quella che è i dogmi del marxismo in modo dogmatico, in modo molto semplice sviscera questi concetti e soprattutto una cosa che io ho apprezzato e in cui mi riconosco è anche l'evoluzione da un punto di vista di come l'economia è andata cambiando e come determinati rapporti di forza si possono e si arrivano a tradurre oggi ad esempio il concetto della finanziarizzazione comunque quando voi parlate ovviamente del termine del superimperialismo ripreso da Hudson e così via cioè c'è comunque una realtà reale a mio avviso che è ancora oggi molto ignorata anche in determinati ambienti della sinistra perché perché si tende ad ignorare quella che è la finanziarizzazione dell'economia perché si ferma ma che ci si ferma la lettura fai conto di quelli che sono i testi di Lenin e non si pensa come invece quei testi si possano evolvere e riadattare ecco io ho visto una sintesi in questo pamflet devo dirti la verità tra quello che è lo studio sostanzialmente e i concetti chiave dei classici attuati però al mondo attuale questa qua è una cosa che onestamente vuoi o non vuoi nella vulgata manca perché perché i partiti di sinistra hanno smesso di fare di svolgere quella che è la loro funzione storica se sono diventati i partiti partiti d'opinione e in modo chiaro e definitivo ho detto finalmente Ottolina ha creato questo manuale e questo manuale tanti secondo me che leggono e che seguono Ottolina possono capire in pieno quelli che sono i punti chiave in cui ci si riconosce sì 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 no 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 io diciamo condivido e sono contento che ti sia arrivato che ti sia arrivato in questo modo poi Ottolina è un media quindi non mira ad avere una posizione non deve avere non diciamo non aspira ad avere una posizione politica definita non è un partito né niente di tutto questo però chiaramente cerca di fare una panoramica al tempo al tempo stesso storica e analitica degli ultimi almeno 80-90 anni e quindi di tutte le dinamiche economiche politiche fondamentali che condizionano la realtà contemporanea in modo tale da poter dare in qualche modo quegli strumenti di base per chi si riconosce in determinati valori dietro cui noi non diciamo non ci nascondiamo chiaramente citavi la tradizione marxista la tradizione socialista noi ci rifacciamo sostanzialmente un po' a quei valori a quei principi e come un po' dice anche il nostro diciamo il nostro motto vogliamo essere il media che dà voce al 99% e però insomma è necessario riconoscere conoscere tutte le trasformazioni che sono avvenute a livello di rapporti di produzione a livello di modi di produzione nelle società occidentali negli ultimi 80 anni perché giustamente come dicevi te se si rimane a lenin a marx ma anche se si rimane a 30 anni fa si capisce poco di quello che sta avvenendo e inevitabilmente ogni poi progetto di azione politica rischia di essere inefficace quindi diciamo la l'elaborazione teorica la lo studio l'elaborazione intellettuale delle delle condizioni materiali date oggi delle possibili contraddizioni eccetera eccetera è fondamentale per creare un soggetto politico veramente efficace quello che si può dire infatti oltre alla alla tradizione diciamo di sinistra a cui facevi riferimento te alla sinistra ztl alla sinistra finto progressista eccetera eccetera che è sostanzialmente ormai diventata un'espressione di quello che noi chiamiamo il partito unico neoliberista oltre a questa diciamo sinistra che ormai è da considerare appunto davvero dall'altro lato della barricata anche dal nostro lato della barricata quindi chi si riconosce nell'area diciamo popolare del mondo del lavoro eccetera eccetera le espressioni politiche sia in termini di movimento e di partiti negli ultimi 20-30 anni mancando io credo di questa elaborazione teorica poi si sono in qualche modo sciolti molto facilmente e si sono rivelati sostanzialmente inefficaci ecco il movimento 5 stelle per dire per fare riferimento all'ultima grande esperimento politico che sembrava andare in questa direzione essendo animato da principi assolutamente giusti e condivisibili essendo forse stato l'ultimo grande movimento popolare mancando però di questa diciamo ideologia ma in senso buono di questa elaborazione teorica forte alle spalle poi è diventato prima la gamba del centro destra poi la gamba del centro sinistra e oggi vive di battaglie pressoché contingenti perché gli manca una visione del mondo perché gli manca appunto una visione fondata di quello che sono le condizioni oggi se poi appunto aggiungo brevemente anche per per chi per chi per chi fosse interessato anche ad approfondire un attimino quali sono i punti principali che affronta giuliano nel pamphlet dicevo è una panoramica degli ultimi 80 anni e dei passaggi fondamentali ci si concentra poi inevitabilmente molto sulla cosiddetta contro rivoluzione neoliberista senza la quale diciamo è impossibile comprendere quello che sta succedendo oggi quindi questa grande appunto contro rivoluzione perché questa rivoluzione diciamo passiva attraverso cui poi le classi dominanti a partire dagli anni 70 in poi hanno cominciato a restringere quegli spazi di democrazia e di diritti sociali che invece non è famosi nel trentennio d'oro post seconda guerra mondiale le classi lavoratrici grazie appunto a una grande organizzazione politica si erano conquistate quindi noi siamo in questa fase della contro rivoluzione neoliberista nelle società occidentali uniprogressivo appunto restaurazione di rapporti prettamente capitalistici che sono rapporti prettamente oligarchici e quindi antisociali e antidemocratici e la finanziarizzazione appunto è uno strumento diciamo di questo disegno un disegno che non va inteso in senso diciamo strettamente complottista nel senso del gruppo bildenberg no come magari alcuni fanno in maniera semplicistica dell'area del dissenso alcuni canali di disinformazione nostra di informa di contro informazione al nostro avviso cadono un po spesso in questa in questa tentazione no della della mano della mano della cupola dietro no sono spesso processi storici epocali che non hanno 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 regia le volte anche inconsapevoli comunque questa è la contro rivoluzione neoliberista e oggi in occidente stiamo vivendo questo poi grande parte del pamphlet è dedicato allo scontro oggi in atto e alla la fase che si è inaugurata sostanzialmente con la guerra in ucraina che è una fase poi di guerra che è una fase di conflitto e di guerra più o meno diretta tra l'impero occidentale al cui interno sta avvenendo questa contro rivoluzione liberista e poi gli stati diciamo che fino a questo momento non avevano avuto la forza di con di di opporsi all'egemonia occidentale imperiale americana ma che in questa nuova fase invece hanno che stanno appunto tra virgolette mettendo 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 in difficoltà e ponendo un ostacolo proprio ai disegni egemonici occidentali quindi grande parte poi del pamphlet dedicato a descrivere questo questi conflitti tra l'impero occidentale la russia la cina la transizione al mondo multipolare che sono un po insomma il contesto fondamentale geopolitico in cui ci troviamo oggi e che corre parallelamente poi al discorso invece più legato alla contro rivoluzione neoliberista che riguarda la politica interna e quello che sta succedendo un po nelle nostre società questi sono un po i due piani fondamentali che sono anche intersecati naturalmente che cerchiamo un po di sviscerare nel nel pamphlet sì ma due due piani centrali proprio nel mondo di oggi io voglio un attimo eh ricollegarmi a un paio di punti che che tu hai detto il il primo punto io devo dire no io proprio anche per tradizione mia per quello che è il il passato mio da da dove vengo e tutto quanto no io eh politicamente avevo militato per tanti anni dentro di fondazione comunista ero in quell'area dell'ernesto proprio sin dall'inizio l'ho visto nascere poi dopo quando stavo quasi per morire me ne ero già andato e e ho visto la dissoluzione e tutto quanto no quindi un'area tra virgolette che era molto eh ideologizzata nel senso che comunque ci riferivamo proprio fondamentalmente a Marx a Lenin e così via no e anche io devo dire in questi ultimi anni subito quando è scoppiata poi dopo la guerra ovviamente in Ucraina perché quello è stato uno ed è a mio avviso uno spartiacque quello è uno spartiacque vero cioè c'è c'è un prima e c'è un dopo anche nella divisione del mondo unipolare e multipolare per quanto i segnali si erano visti quello a mio avviso diventa centrale ecco andavo ad interpretare o quantomeno mi trovavo ad interpretare quella che è la situazione in base a determinati concetti appunto no magari leninisti e così via però cosa ho fatto io devo dire la verità un po' attraverso anche quelle che sono le discussioni che si sono aperte dentro Ottolina un po' comunque anche perché poi dopo vai a ricercare per conto tuo mi sono reso conto e questa è l'esperienza personale che c'era una parte che ignoravo totalmente sostanzialmente la parte della finanziarizzazione il modo in cui è cambiato comunque l'economia soprattutto negli ultimi 30 anni è cambiato e proprio attraverso comprendere questo cambiamento mi ha fatto anche capire come la realtà ad esempio europea rispetto a quella statunitense è cambiata nel senso che se prima veramente anche guarda non esagio anche 40 anni fa 30 anni fa c'era tra virgolette l'unione europea rappresentava tra virgolette anche quello che era un po' l'imperialista adesso non lo è più nel senso perché perché è totalmente subalterno e questa qua è una cosa che se non si capisce come è avvenuto se non si capisce come le elite politiche si siano sostanzialmente europee vendute e siano state acquistate dal capitale americano se non si capisce che le elite europee non importa che il prezzo del gas aumenta che l'economia si distrugge qua perché loro fanno interessi finanziari alla borsa di wall street e non si riesce a capire per quale motivo noi stiamo portando avanti un disegno come quello di distruzione delle nostre vite in prima persona dell'unione europea ai danni e tutta da vantaggio delle degli stati uniti e quindi quando oggi ti dice o si dice eh ma che cosa ci guadagna l'europa a fare tutto questo semplicemente l'europa e il popolo non ci guadagna nulla ma le elite finanziarie ci guadagnano molto perché sanno dove andare ad investire e proprio perché transnazionale a quel punto si spiega questa situazione questo qua io devo dire è un concetto che fino a un po' di tempo fa tendevo ad ignorare proprio per impostazione anche mia no ideologica del passato e tutto quanto invece a mio avviso questa impostazione non ha indebolito quelli che sono i capisaldi anche di una certa tradizione ma li rafforza perché perché li va tra virgolette ad aggiornare questa qua è secondo me una cosa molto chiara per cui io consiglio di leggere anche questo pamphlet perché in modo molto semplice e per tutti questi concetti sono spiegati così come è spiegato anche quella che è la divisione sostanzialmente tra l'west against the rest no e quindi tra l'occidente e il resto del mondo e il resto del mondo tu lo vedi si sta organizzando in modo forte perché perché vuoi o non vuoi ha capito che si può fare a meno anche dell'occidente cioè si possono sviluppare economie alternative non bisogna essere schiavi per forza del fondo monetario internazionale e ruolo chiave che giocate che giocano quella è che la russia e la e la cina è fondamentale basta vedere quello che succede anche in africa non è che la modalità differente di fare business e di fare diciamo egemonia vuoi in quelle zone che viene riconosciuta anche da persone più o meno oneste come come io magari penso ad esempio nel contesto degli stati uniti a volte anche come un robert kennedy dice lui ammette chiaramente determinate cose determinate contraddizioni del del sistema ora una cosa che voglio chiederti ma diciamo in questo quadro no la parte ovviamente finale del del pamphlet va a parlare proprio di quello che è sostanzialmente la contro informazione nel senso che di fronte a quella che è l'ideologia dominante che ci bombarda e che ci vuole convincere che questo è il migliore dei mondi possibili noi dobbiamo vuoi o non vuoi combattere questa battaglia egemonica no e fare contro egemonia egemonia e in questo ottolina tv è appunto proprio perché ti dicevi la tv del 99 per cento vuole rappresentare la maggior parte delle persone ecco la ste come dicevo io all'inizio la stella la in questa è la stella a polare ecco quali sono diciamo in questo chiave quelli che sono gli obiettivi che vi ponete e qual è la vostra visione cioè dove vogliamo arrivare dove intende arrivare ottolina tv ma allora intanto hai descritto benissimo prima secondo me un po il contesto un po il contesto generale no è fatto bene a ricordare che rispetto diciamo a 30 40 anni fa è chiaro che l'italia e le l'europa che prima potevano essere saldamente viste dalla parte dei degli imperialisti oggi invece stanno subendo questa stessa impostazione imperialistica americana e come scrive panflet come scrive giuliano nel panflet stiamo assistendo da una doppia rapina no la rapina che drena ricchezze dall'alto verso il basso quindi dal basso verso l'alto ma anche poi la rapina appunto che invece drena ricchezze dalle periferie dell'impero verso il centro dell'impero tant'è che noi appunto l'unione europea che tra l'altro c'era stata raccontata come assolutamente necessaria perché se no l'europa non poteva competere con le grandi superpotenze ecco da quando esiste l'unione europea gli stati europei hanno dimezzato il proprio potere competitivo nei confronti dell'alte superpotenze no cioè più clamorose smentite anche un po della della propaganda della propaganda europeista in questo contesto noi pensiamo di rappresentare pensiamo che la nostra che la nostra la nostra la nostra visione la nostra prospettiva rappresenta gli interessi veramente del 99 per cento ma questo vuol dire non solamente delle classi popolari delle classi lavoratrice del proletariato in c'è ma anche appunto della vecchia borghesia se vogliamo no la vecchia borghesia produttiva sviluppista che non è più oggi la classe dominante perché è stata scalzata dalla dalle dall'elite o dall'elite finanziarie cioè quindi c'è stato proprio anche un passaggio a livello di classe dominante che è uno di cui una deve prendere atto e prendere atto del fatto che oggi è diciamo tanti di coloro che un tempo eravamo abituati a pensare a quei nostri nemici invece oggi sono dalla nostra parte della barricata e condividono un nemico quantomeno un nemico comune no e che avrebbero l'interesse come noi a riconquistare per dire sovranità a riconquistare no c'è spazi democratici eccetera eccetera a mettere comunque in dubbio e in questione questo impianto oligarchico finanziario imperialista eccetera eccetera alla domanda quali diciamo quindi questo questo è un primo aspetto secondo me importante nel senso fare egemonia perché appunto l'idea è quella che stai sostenendo delle tesi è una prospettiva che veramente rappresenta gli interessi del 99 per cento delle persone detto questo quello che noi diciamo nel nostro piccolissimo cerchiamo di fare è appunto contro egemonia perché poi oggi invece l'egemonia culturale non rappresenta gli interessi del 99 per cento delle persone rappresenta gli interessi tra virgolette in questo in questa semplificazione dell'un per cento è un'egemonia chiaramente che ha dei mezzi a disposizioni potentissimi c'è la quasi totalità della carta stampa dei giornali la quasi totalità dei media tradizionali eccetera eccetera anche tantissimi diciamo canali youtube che evidentemente non subiscono tutti i meccanismi di censura e di ostacolo che ad esempio noi subiamo no perché stanno da quell'altra parte rappresentano quegli interessi quindi oggi ci si scontra contro un'egemonia che ha dei mezzi a disposizione in termini di potere mediatico ed economico fortissimo pensare che un partito un movimento politico veramente antisistema possa nascere senza alcun tipo di copertura mediatica alternativa a quella dei media tradizionali secondo me è una follia cioè nel senso comunque vuoi vuoi o non vuoi oggi la gente si fa le proprie opinioni a politica attraverso i media non andando al circolo arci non andrase il po attraverso i media quindi se appunto questo mondo mediatizzato è monopolizzato da certi interessi un partito che si pone di rappresentarne altri magari può avere una spinta iniziale poi in qualche modo fare un miracolo ma poi è destinato a morire è destinato poi a essere inglobato quindi prima di tutto c'è questa consapevolezza qua se mai dovrà nascere un movimento politico popolare antisistema eccetera eccetera ehm dovrà avere una copertura e dovrà avere un supporto mediatico dietro altrimenti eh non non ce la fa eh noi in questa fase non non ci poniamo al continuo non ci questo problema non non ce lo poniamo cioè è una consultazione che facciamo eh e l'idea nei prossimi anni è di continuare a fare appunto controegemonia con nottolina nel frattempo abbiamo fondato questa questa associazione che si chiama multipopolare l'abbiamo fondata qualche mese fa quindi diciamo è ancora uno stato abbastanza embrionale anche dal punto di vista organizzativo però l'idea è di cominciare a fare anche un minimo di radicamento territoriale nel senso controegemonia è vero la fai con i media oggi purtroppo soprattutto ma poi la fai anche sul territorio con eventi organizzazioni eccetera eccetera no e quindi multipopolare deve portare avanti anche questo 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 tipo di lavoro che è altrettanto importante perché poi in verità ehm è vero che che la dimensione mediatica è fondamentale ma se è una dimensione solo mediatica sei altrettanto debole no quindi diciamo il movimento politico del futuro dovrà tenere insieme entrambe queste entrambe entrambe queste dimensioni. Ale guarda andiamo verso le conclusioni e ti dico ti chiedo una cosa allora perché io eh proprio in questa chiave secondo me il lavoro che ne sta uscendo fuori è veramente ottimo nel senso che io ho parlato beh parlo abbastanza frequentemente e con Alessandra Ciattini che interviene spesso nei vostri anche su Sottolinea TV e anche con con Daniele trovato di Guerriglia Radio che ha anche moderato determinate cose noi quindi parlavamo della della festa di Ottolina perché io dicevo vedi dico hanno fatto una festa veramente no deve essere stata una figata eh pazzesca e entrambi mi hanno detto c'erano tutti e quindi che cosa significa significa che vuoi o non vuoi anche una realtà che ha iniziato comunque da poco tutto quanto il mondo contro però portando avanti determinate idee portando avanti in modo comunque strutturato perché perché qual è il problema grosso? Il problema che noi abbiamo visto anche di tanti movimenti è che appunto eh nascono crescono no e poi dopo in modo carsico eh si sgonfiano e e partono invece il modale di strutturare quella che è l'attività tra virgolette politica così come a mio avviso Ottolina la sta cercando di strutturare è fondamentale perché deve contenere differenti voci differenti anche posizioni di dibattito seppure sotto un'unica guida no cioè sotto un'unica eh visione del mondo quanto quanto meno che quella appunto espressa espressa nei principi dei principi diciamo dei principi ispiratori sicuramente no la distribuzione della ricchezza welfare state democrazia cioè quello dovrebbe la costituzione poi non è che sia esatto non dobbiamo inventarci nulla eh cioè è per fortuna almeno dal punto di vista del vocabolario non dobbiamo inventarci nulla ma uno non si inventa nulla però qual è il problema il problema è che un determinato modo di pensare e di fare è entrato talmente tanto in disuso per cui sembra che ti stai reinventando stai reinventando qualcosa di nuovo no? Cioè eh affermare i principi che sono scritti nero su bianco in un nella nostra costituzione che sì cioè è anche una costituzione eh diciamo per fortuna fortemente socialista ma ci sono anche altre tradizioni è una costituzione sostanzialmente no che tiene insieme interesse sociale diversi però anche solo rifare fare riferimento a quei principi là semmai tu stia dicendo una roba da 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 veramente da 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 utopia sì bolshevica da un'utopia senza senso quindi ehm sì e poi ci saranno altri eventi Ale ci saranno altri eventi come questi per discutere come la festa eh diciamo anche se in piccolo non so cioè ci puoi ci puoi dire qualcosa o sì assolutamente allora noi con multipopolare l'idea è che da settembre in poi organizzeremo una festa regionale di multipopolare al mese quindi non la nostra idea il nostro progetto in ogni regione italiana il prossimo anno dal prossimo anno noi eh organizzeremo appunto una festa regionale ehm che saranno un po' gli eventi più significativi oltre naturalmente a festa ottolina che ci sarà il prossimo anno ehm insieme a questi eventi regionali poi i vari gruppi di multipopolare che si stanno formando a Milano a Roma a Firenze a Pisa insomma un po' in tutta Italia organizzeranno anche altri eventi eh diciamo tra virgolette più piccoli o comunque di rilevanza maggiormente cittadina locale e quindi insomma sì l'idea è di farne il più possibile poi vediamo quante forze abbiamo quanto ne riusciamo a organizzare però ecco siamo fiduciosi quante più cose organizziamo più siamo contenti di farle e quindi sì e questo è un po' la questo è un po' la 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 speranza e il progetto che poi eh Ale adesso detto questo di saluto se uno pensa rispetto ad un anno fa no la festa di quest'anno è la festa anche dell'anno scorso di Ottolina cioè quella di quest'anno era veramente quasi una festa sembrava delle migliori feste dell'unità di allora del pc cioè dei panel incredibili tutti partecipati bisogna dire questo Giuliano cioè poi appunto Giuliano è stato quasi cioè veramente geniale perché un visionario perché diciamo molti dicevano ma che stai a fare ma fai il panel, cinque tavoli di discussione contemporaneamente alle tre di pomeriggio di giovedì il primo giorno di luglio a Putignano cioè sei un pazzo un megalomane lui lo è però diciamo in questo caso sembrava un delirio di onnipotenza e invece è stato bravo e ha detto no sì ce la facciamo, lo dobbiamo farlo e l'abbiamo fatto e ha avuto ragione, insomma lui ha questo grande merito di rilanciare sempre sa far accadere le cose quindi insomma credo sicuramente siamo anche in buone mani da questo punto di vista Ale dai ti ringrazio veramente detto questo, ricordo ancora la riscossa multipopolare analisi, storie e critica per un progetto di azione politica edito da Poets and Sailors lo trovate in tutti quanti penso anche le librerie online anche su Amazon si trova ovunque sul nostro sito sul sito della casa editrice su tutte le insomma i principali librerie online e poi a questi eventi che faremo chiaramente ci saranno anche le copie cartacee disponibili grazie Ale buona sera grazie mille Luca grazie mille Luca ha fatto molto piacere alla prossima ciao a tutti ciao